e manca fox sai che c'è la raiosettata solo fox me dicevi o cominciò a giornare marchio grazie fox siamo prigiti io non ho sentito un'ora e non c'è un'ora che va spostato il canale l'asso tempo ok andiamo in mappa allora stasera l'asset è bravo la squadra di raven anzi il raven fa alfa il mio è il team comando quindi la squadra di alfa qui ha segnato il propeller come il nostro scout ci anticipa il team comando composto da me che sono il pl più tutto il team viaggia sul mk5 guidato che è il tank guidato da fox l'obiettivo è la partenza l'iter più che altro la partenza qui dalla base con il prowler in punta che ci precede più o meno stavolta facciamo di un chilometro ram quindi parti alla tua velocità raven parte alla tua velocità noi con fox seguiamo dietro e l'obiettivo è l'aeroporto che non abbiamo preso l'altra volta che è un punto focale essenziale l'aeroporto di il shad trovate in 0 9 2 1 0 8 più o meno l'aeroporto è composto all'aeroporto a nord e la città a sud sicuramente anche la città sarà occupata da ribelli mentre l'aeroporto penso lo troveremo occupato da forze regolari guerriglie del deserto esatto non gli opfor credo saranno gli af del deserto non avete visto la differenza anche l'altra volta non abbiamo giocato contro gli opfor ma stiamo giocando contro gli af del deserto truppe medio orientali africane insomma quella banda lì non so mi salta il microfono comunque dopo lo sento meglio comunque mi sentite? sì sì più o meno il concetto base allora Raven gli ordini per te sono recon e rimani giallo rosso quasi nel senso non ingaggiare mai se non c'hai un backup nostro dietro abbastanza vicino sui 100 200 metri capito? come vai col provler vai più avanti quindi fai recon se ti dovessi ingaggiare torni indietro e ti attesti in posizione bene ho ricevuto mettiamo i waypoint un attimo insieme così almeno facciamo tutti altri a stasera ok qualora dovessimo incontrare resistenza non non ci fermiamo all'infinito nel senso la missione non è pulire tutto quello che incontriamo in giro ma fare l'aeroporto ok ha saltato un numero metto 2 e 3 3 e 4 come? ho messo male i numeri? 2 volte 2 ok ma sopra non me ne vado a cancellarli quindi vabbè 2 questo perché c'ha una sua peculiarità si chiama 2b ok l'asset di eco c'ha tre opzioni c'ha little bird medio dare con il anzi quattro opzioni il venom se dovesse servire per faccio tutto un team prendi il venom il comanci qualora dovessimo avere dei problemi con fox se ci serve un supporto immediato di grosso calibro e il chinook per eventuale estrazione finale bene dead roger ok tende comunque te lo rinnovo per l'ultima volta se non te la senti che stai male e state a terra non c'è nessun problema ma non è che sto male è che non riesco a parlare porca miseria ok allora adesso organizzati con viper se ti serve rimani comunque il capo squadra tu se ti serve devo fare il rammarco lo faccio fare a lui le comunicazioni va bene allora credibile pronti partiamo in macchina e muoviamo ci troviamo fuori al cancello dall'uscita e poi dopo sgancio alto ok ok procediamo ok sarà contento di non sentirmi oggi fox tank qui davanti caricata la cosa più io ho caricato un po' le munizioni mi raccomando sto registrando perchè questo è il nostro metodo è più comandante si si ma ci sono dentro e poi noi ci portiamo un drone piccolo dietro fate portare le siete piati i tappi si si perfetto anche se non sono sicuro che servino uno 760 560 660 660 che senso non ho caricato non sembra fare tutto questo gran rumore e alcuni specialmente quelli dei mezzi quando spari fanno casino cioè quando stai dentro te fanno fischiare le orecchie la bolla è infernale se ci ho caricato un'intera partita è infernale proprio guarda ecco a comando avanti ecco ecco richiede il permesso di rullaggio passo garantito e autorizzato il decollo copio cosa è non è tutto Noi siamo alfa A titolo informativo Se vado su Sapete La procedura Switchate sul canale comando Ok Alfa qui comando Avanti comando per alfa Ok procedi pure su vp1 Ricevuto alfa procede Ok Il fiuto non c'era Il briefing Lo dico qua Facciamo un recondo Oggi siamo più avanti E in qualsiasi caso Evidiamo di ingaggiare da soli Grosse quantità di amici Anche contatti sporadici Facciamo affidamento Sul team comando Che sta dentro Al tank Facciamo solo La recondo Ineration kill Dai Esatto Siamo in giallo-rosso Più o meno E lo rosso non ha un colore Eh Abbiamo più rosso che giallo Però se È un caso molto particolare Che ci sta vicino Siamo anche in giallo Con il fuoco Quando siamo soli Che ci sta vicino C'era dello scouting Qua sulla città Ma allagga solo a me Un pochino a tratti Anche a me Però qua Quando carica le unità Le cose Nante volte Non si assesterà Sembra libero Comando abbiamo visto Una tecnica All'esterno della città Verso Ovest Confermiamo Alphabreak Con la tecnica Entra nella città Solo avessimo più Un'entrame Tutti Ok Licevuto Stiamo arrivando Prendi posizione Alphabreak Vai in copertura Ecco la città Ce la dovete dire Pro eh Bassi no Qua 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 Ci attiro La tecnica Via Vede Chiedo Il compound successivo Ho visto Un nemico Settiamoci qui dietro Se sbuga qua dietro Matt Falla Questa C'è Raven Dawn Non bene Ma c'è la tecnica Qua Lo recuperi Deve essere presso 80 Prego Stocco da davanti Alpha Check Abbiamo Raven Dawn Dicevuto Oh minchia La fortuna Si è passata Di qua Proprio Proprio Steal killer Cazzo Comando Qui Alpha 1 Alpha 1 Nuovamente operativo Siamo attestati In un compound Coperto Giuda Arriviamo in supporto Grazie Che form è Abbiamo un contatto 2-6-0 Qua da la finestra Mi sarà Ben Non so capire Se è nostro Nemico No 2-6-0 Sono nemici Non so Non capisco Perché è uniforme Non capisco Il colore Dovrebbe essere Eh Sono i desertici Degli AF Quelli nuovi Sì sì Sono nemici Questi sono nemici Che affrontiamo oggi Non ingaggiamo Per carità Per adesso Appena arrivano Gli altri Ci sentiamo Sopra sul tetto Matt E si può aprire L'entrata Alpha qui Comando Siamo Lungo la strada Procedi pure Fino a fine Villaggio A piedi Lo puliamo Per sicurezza Facciamo passare Il tank E poi dopo Rigeniamo Alla fine Nel villaggio Ricevuto Abbiamo già individuato Diversi contatti Al nostro ovest Nei compound Vicini Procediamo Con la polizia Interrogativa Affermativo Vediamo supporto Non rimaniamo Sempre lungo la strada Ricevuto Ok Matt Sul tetto Tecnica l'hanno fatto Ok Vai Sporgiamoci Qua Iniziamo a falciare Stanno a 26G Eh 2 8 9 8 9 9 10 Trolli ho fatto Ok Matt Tenimi un attimo Questa posizione Io e Fiu Avanziamo fino al muro E trova davanti Vieni Fiu Qua a destra Fiu Vieni Lampo Lampo Buono Ho a chiedere il muro Fox Copia la mia Quella incrocia Buono Grazie. Mi comando qui alfa, la zona è relativamente libera, con diversi contatti è ancora nel lato sud-ovest, un po' lontano. Il gioco dove l'importante è che non ci siano atti. Medico a comando. Avanti medico. Atterrizione sulla strada. Roger. Copi. Ok, torniamo dal mezzo e andiamo su vp2. No, ho sbagliato. No, puoi cambiare anche da dentro senza che esci. Alfa è in movimento verso vp2. Ho capito. No. Prego. Vabbè. Che mi avevi detto tre due due io, cioè tre noi e quattro due, quindi siamo tre noi e quattro due. Sì, ma poi tutto questo che avevamo sbagliato a contare eravamo 6. Mi sa che non mi avevi capito dopo. Forse. Vabbè. 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 Grazie a tutti 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 Via 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 dentro 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 Grazie a tutti 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 Comando qui Grazie a tutti 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 Comando Grazie a tutti 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 Lo porto Grazie a tutti Comando Grazie a tutti 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 Comando Grazie a tutti 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 Comando Grazie a tutti Comando Porco Grazie a tutti Ehm... 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 Colpo 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 2-260 Positivo Non abbiamo più Ehm... 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 Andiamo... Ehm... 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 No, non in quel senso, come le armi leggere o AMG, cose così... Occhio ce n'è uno che è più... Mi stai a dire, scusa? No, come armi c'ho solo i 7.62 e basta, che altro c'è? No, tipo, però tutti i fuggiti sono sargenti... Sì... Ok, ora noi copriamo, poi imbucciate una sessione da sopra, poi... Cioè vediamo voi a sinistro o a destra. Ok, io entro la parte... No, no, 3 e 3, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra, a destra... Ah, e l'ingresso ne è uno. Comando P-Alpha, abbiamo eliminato la parte del montaggio, stiamo facendo la parte del 100B. Ok, alfa, massima copertura, c'è il comando che avanza lungo la stralungo... Vabbè, per andare in 5B, occhi aperti soprattutto sull'agglomerato di case che non abbiamo pulito bene. Roger. Guardiamoci un po' a destra, che ci abbiamo spazio. Ok, facciamoci un po' di... Copertura, copertura, scuola... Certo bene... Guardate, in seguito. ok forse l'abbiamo eliminato forse no no non ho vero, si forse si, dove? un cresterno, ah si è vero, ne sono due, spero che l'abbiano visto, del comando, del comando, se no prima di entrare facciamo il check noi, ma penso che l'abbiano visto comando, fantria, check segnaliamo, segnaliamo due contatti dietro al bunker fuori dal compound, lato nord non c'è uno dietro al servatoio, anche l'hanno fatto loro, ok, ok, ok ancora l'ha stato ma io gliel'ho detto dai quelli dietro, l'hanno eliminato uno, avranno capito che c'è il secondo, quindi bene, atteniamoci alla copertura più possibile, tra poco rifiniamo su ok ok, comando, fanteria qui, alfa, bruciiamo anche noi con il resign nel CQP andiamo, sganciamo è una volta arrivata giù una volta arrivati giù procediamo anche con la copertura della pulizia del secchio di sabbia ok, cresciuto negativo, non sono state per sparare correde, correde, se siete sotto fuoco, correde, arriviamo sotto le mura di cinta guarda un pochino in punta destra dove sono assicurato i due pericolari sono stati si no due no uno nemico un orca nemico e' matto a spigolo arriviamo su sacchetti occhio sui buncherini e' morice occhio sotto sotto al oh chi e' ha tirato ok era un fumo ok occhio sotto monkey e' ci sono all'interno e' debba entrare e' beh no quelli non li raffa e' falli abbiamo hai certo due misi e' battere coperti dietro i sacchetti e' matto il fio sono due orca nemici dai entriamo lo facciamo da dentro gra da dentro al bunker occhio ok se ce n'avete un'altra monkey se ce n'avete un'altra monkey se c'è un'altra diraggela dentro che ossa che esplodono tira nel bocchettone eh mi raccomando giusta ci puoi shift g calcolare la traiettoria vedi ok ottimo altra erana da fuori occhio ok vai vediamo ok la maggior parte larga te prima fai largo quale è di due i nostri elicotteri no 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 e' beh direi che abbiamo fatto un bel mangello ottimo più libero vai sopra catastro dico marito in peperoni esatto adesso in peperoni ok troviamo all'ingresso posto guardando eh era uno ottimo alfa sentiamoli sul tetto e andiamo all'ingresso matt eeeh ramios l'avete pulito tutto l'avete pulito tutto il lato sud si si perfetto comando qui alfa fobi in sicurezza cos'è che nessun dei due elicotteri è nostro no infatti manco nessuno dei due quello che ho capito è nostro solo che un attimo stavo un po' parlicchia eh si no nessuno dei due è nostro c'è fox se la sapendo è un po' brutta lavora per noi fox ho due orca con la cosa con il lancerazzo oh che puttana l'ha preso confermiamo un bel dita battuto comando ok pronti a far fuoco su quello che arriva 1 2 0 no niente niente ancora ci ho provato anche il secondo bel dita battuto comando armatiche fanno fuori elicotteri ah ah queste cose proprio stile batte fitte che pia hanno accannonato un elicottero no siamo nell'era dell'elicottero inutile vedete su civilization noi ci sono i cavaricoli che vanno nell'elicottero beh occhi aperti si alfa occhi aperti nella visitazione i torni abbiamo ancora contatti in zona dai che spara ah il cos spara ai civili spara alfa giù andiamo a recuperare il mezzo che nota dolente fila negativo negativo se stavano mochi ti ricordi di essere al mezzo? no negativo ho ricevuto vedi i due con me gli altri sono stati in zona ai sacchetti di sabbia con gli altri ho ricevuto e da 20 secondi ci siamo non ci sono dietro sperando che i bandi tra potuti non siano voluti proprio sopra il nostro mezzo perchè ecco la zona vabbè andiamo dietro non c'è il secondo mezzo distrutto nella serata no ma se è cascato le ricostre sopra il mezzo arrivo perchè mi pare tanto che è proprio questa zona qui il mezzo proprio sopra l'esplosione non c'è non c'è si beh non costa niente se dovete recuperare fermandemi e vi passo al recupero col mezzo vai vai tranquillo corri forest corri no ok no è più in là il mezzo che è cascato oddio è più no no non ci credo no 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 ma non era lì il nostro si dove cazzo è andato no è più sotto dai no pezzo ah ok lo vedo no è là sotto uff mamma mia comando confermiamo veicolo operativo fortunatamente l'elicottero è caduto a 50 metri da cazzo metà procediamo con recuperare cioè tady bill chubb che cazzo non cazzo ho ricevuto da alfa comando confermi non sosta su deria interrogativo tiriamo dritto ho ricevuto procediamo come primere con confermi ho ricevuto dopo questa strada c'è una cittadina e ci passiamo attraverso se non c'è nessun contatto esante o così così non ci fermiamo quindi occhi aperti comunque vediamo soprattutto ci stanno anticarro in zona e ci siamo se viene a metà esistendo la corso One 2 2 1 2 3 2 4 3 1 2 4 4 6 6 Cazzo c'è mai quella giminiere Ah questo è un'altra Vabbè Ma vuol stare Mi hai occhi aperti qua in zona Porco cane è pieno Comando qui alfa La strada principale di aerea è piena di contatti Circa due battuglie da 12 l'una Facciamo falciare da fox Ok giù tutti posizionati Qua spigolo monkey Anzi no vabbè no Sì no monkey madre scusa spigolo L'ho detto male Ok Monkey qua dentro c'è una finestrella ripiazzata verso il benzinaio Come questa Che carine le luci Cazzo sono andati con tanti Era pieno cazzo C'è un velivolo Per 3-5-0 Pelivolo? Sì sì Era? L'hai visto? No solo le luci lampeggianti ho visto Penso che è andato verso nord Copi quando sappiamo di più lo riferiamo al comando Adesso cerchiamo di individuare Ok Ho contatti frontali Copi stand by ci pensa Truppe Alebane diciamo Parecchie Ho ricevuto da alfa Ok le punifichiamo Le punifichiamo Ok lungo la strada principale alfa Avanziamo verso nord Ad oggi Ci sono anti-carro Copi Comando segniamo contatti anti-carro in zona lungo la strada Mat Velocemente piazza delle Uomme Eliminiamo i contatti Per contatti che poi Gli altri quelli che sfuggono verso nord a vest Asciliamoli tutti mi raccomando Non ci facciamo a gira Ok procediamo Urto vai in punta Piazzate pure all'angolo del palazzo Ti seguo Vai Ciao 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 Attimo Mochi a corso più avanti a nord Coprite sempre il lato ovest User disconnected from your channel Ok Avanziamo lungo la strada verso nord Mochi in punta Avanziamo colonna stretta Guardiamo soprattutto al sinistro Nelle Visto un veicolo Ci era un camion civile Vai Mochi Ottimo lavoro con la polizia con la polizia del lato ovest Monchi few Ok Traversa Un'altra strada Un'altra strada Sì Eccolo Vai Matt Settate sull'angolo Monchi Traversa Vai Vai Matt Settate sull'angolo Altri contatti Monchi Traversa 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 Con me Comando Qui Alfa E' appena passato sopra di noi Un venivolo Non identificato Nemico Probabilmente Non abbiamo identificato La tipologia D'aereo Ma è un aereo A due eliche Con Aereo che voglia C'hai due cose in più Monchi O anche tu Tu hai due caricatori in più Penso che si Eh Eh Me li metti in un zeno Eh S Anche tu Dopo li recupero nel metro Mi sono dimenticato No Consegnati Grazie Ottimo Procediamo Eh Matt C'è Ok Monchi in punta Procediamo sempre verso nord Andiamo 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 Eh l'anereo della seconda Era mondiale M cosa Ma che cazzo dicono Barone rosso Ma quello è della prima no vabbè qua è pulita è pulita ok arriviamo fino dopo il punto 4 in mappa fino all'incrocio principale poi monkey distaccato insieme a matri no insieme a un fioro ne recuperate il mezzo dietro ok matt è sottato qua a spigolo matt più procede pure a recuperare il mezzo ma non hai detto matt di fiora? si anche monkey monkey resta in posizione qui con me scusa non te l'ho specificato qua nord non c'è punto arrivo e non è sfuggito qualcosa vedi? ma io devo recuperare? ah no io porto qua massimo si non dovrebbe essere lontano Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo una numerosa pattuglia vicino qui al mezzo Ricevuto, riuscite a recuperarlo e portarlo qui? Sì, insomma ovviamente rischiamo un po' Sì, penso che sì Ricevuto, procede velocemente che sganciamo allora Sì, perché non lingua io Sì, tutto correndo No, me l'ha detto io No, stai lontano, stai lontano, mi fanno È risulto, siamo a bordo del mezzo Siamo operativi A bordo Alfa, tutti quanti Ok, andiamo Fiore, non hai visto l'anticarro in quella pattuglia? Sì, ce ne stavano due Sì, io l'ho comunicata Alfa, il movimento Sganciamo Sentiamo due botte e sappiamo Corri, 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 corri Corri Non ti fermare, non guardare dietro Comando, vedi, ti caggia la nostra posizione Positivo, stiamo accelerando Non so se l'avete capito che non gli ha fatto un cazzo Ok Ok, l'hanno appoggiata Questa Ecco il sacco Io, 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 ho fatto Io Non toglie le direi Madonna, quanti sono No, negativo, non ha tirato l'attenzione Negativo Oh, Dio Eh, che eleganza Parcheggio perfetto Ciao a tutti Matt, spiegolo velocemente Che ci arrivano addosso questi qua Comando Piazza Siamo arrivati alla periferia 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 Molto popolata Da parecchi contatti Comando Mokki, è venuto attraversa sull'altro spingolo Ricarico Vai Mokki, attraversa Ficca droga Siamo arrivati alla periferia Non tieni nello spingolo Non tieni nello spingolo Mokki, ok? Sì Ok, copri il viziatore Recupero di munizioni Non sai che la fregare tutti dal mezzo Facca vacca Siete sciargari E non ho preso 20 milioni Le ho messo Sono quelle prima No, no, su questo pure Ce l'ho messo tipo 10 Ma 10 se ne vanno via Un po' su sto qua Cosa mi dice che Fox Ho degli alberi Ok, entriamo dentro Settiamo giusto Gabanno Due piani Vai Matt Albero Nemico Sono i AF verdi Non sono più quei marroni Eh, copy Vabbè Vabbè È lo stesso Alla fine Ok, MG sopra Medico E attire del piano terra Del campan Roger Adesso Ma fa piazzare Ma perché mi fa piazzare MG sulla finestra Ma dove stai Ma Qua Non ti patrici Ti sento strano Matt Ma No, piano superiore Matt Eh, ma hai detto giù No No, ho capito A T e Medico Giù Mi sembrava strano Ma che sta succedendo Sassi Mi sei chiamato Orto Dele detto che sei perso Valla a cercare Orto Ecco beh Eccolo Eh, se sta sulla 53.6 Te l'ho mandato adesso Ti è romperci Capito beh Cioè, hai ferito con l'albero Questi alberi Lo sai che la bimonda Che c'è un albero Che ferisce Quando ci sono a me al torso fiora te che ti ho dato preso eh niente io so poco a te niente ok a posto è la prima volta che vedo un albero che casca si ho contatti si ho contatti sotto l'impatto però è preciso che si caseggiati a nord cobi vengo su mettoni su un muretto un altro che questo scoperto dimmi arrivi si cazzo da quell'altro lato andiamo no è qua dentro la casa dentro la casa c'è schienzo da qui si 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 ok mappa allora noi siamo qui voglio quantomeno prendere la porta della città poi da fare una estrazione prendiamo solo la porta per ovvi motivi di tempo avvia la porta ok quindi Raven più o meno fa sta traiettoria qui ma è libera è solo indicativa eh ricevo fuoco Ramus De Biazzi sei in green Matt o non riesci a individuare la sordia è acustica con Ramus non li vedo devo andare? si ecco il comando ok andiamo davanti a nord siete i nuovi voci per me ok non abbiamo più fox perchè il jumper è sceso è ferito e quindi il nostro supporto air to ground siete voi è andate è andate scattato sui me mi ha sparato io vedo la porta è mortale? è giù è un superfano oh sono cascato da sotto ma mi è cazzo ma check mi hanno preso ma mi sono rinvenuto giudo facciate abbiamo monkey down copy faccialo va dentro casa eh è dentro casa Raven occhio perchè penso che sparano da dietro il portone positivo positivo stanno lì dietro infatti abbiamo eliminato i quelli che vedevano ma nel senso che sparano attraverso proprio si 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 abbiamo sparato attraverso pure noi per quello dove gioco stanno anche altri movimenti dietro a nord vedo ok Matt tieni la posizione insieme a Fioran tenete questo caposaldo io e monkey appena possibile calcurato attraversiamo verso nord ok c'è una prova ok vediamo monkey chi lo sa sparare porta roba da destro ok 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 Ok, non c'è nessuna mia, devi venire con me, sto a ovest, nord-ovest del casottino Riven, abbiamo contatti da ovest Hai ricevuto, riuscite a eliminarli o è complicato da lì sopra? Sto sportendo, la penso sia una parecchia C'è una sola mia, sto a nord-ovest Occhio, lì all'avventura ci stanno contatti Guardate mano qua sopra Guarda, sopra i nostri Siete in green per l'abbattimento, date conferma, abbattimento dopo ogni mezzo Di nuovo I andare cada una Chiella Adesso Un'altra 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 Grazie a tutti. 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 Ok, saliamo sopra. Tutti settati sul tetto, sul secondo piano. 090, 103. Quando ho qui alfa, rifiuti sotto custodia blu. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Mi è piaciuto. No, però, negli occhio sui vari denti. Sto da statica sulla gru. 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 Sto da statica la 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 gru. almeno non sparano a noi come la situazione è qua? no, qualche contatto al nord c'hai un paio di penne? si, ok quanti ne ho? ho veramente controllato io una quindicina ce l'hai ma quando finisci l'altra fanno i penne vabbè tazzo non me dovrebbero servire cazzo e lo fanno che cazzo yes a me, venite a me ringhiere della minchia un po' ancora? allora il vostro giungo no no, stavo bruciando mi stavo riflettendo sul fatto che fossero ringhiere della minchia eppure io ci sono caduto eh sì, ma computa la mia teoria che fossero ringhiere del cazzo no no, assolutamente bene, ringhiere, non ci sono invece certo, sinceramente proprio per ruggire chiamaci tutti dietro Fioran e spingiamolo di sotto no, no, non voglio non voglio non voglio, no no, no non sarà che tipo esplodiamo non so perchè però fa così anche sulle sparre della prigione fa lo stesso penso sia che per causa della mappa perchè cioè non è no, è l'oggetto sbarra ma sottaghi se non funziona, non capisco perchè ecco il discorso pure dovrebbe essere testata oggi quindi a meno che non è qualcosa dato, cioè è dato server ma non credo proprio oh, chi è che mi ha preso tene uno a est che spara ragazzi ehm, dietro di albero non lo vedo no, è dietro un muretto grazie senti un po' per favore uno zero zero senti ecco per cortesia chiudiamo ecco qui alfa ti dicevi prendo per un no no non so cosa ho detto dead ma eccomando qui ecco è distorta la comunicazione se tornano se rimangono la ehm ecco qui alfa siete in fase di rejoin o rimanete in base interrogativo c'è un talebano dietro qua a sud a sud ovest il nord ha sparato a vuole c'è un nord c'è un nord cazzo ma non è proprio comando eh sì ecco qui l'alfa ripeto ehm fate rt 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 in base oppure coglioni non mi risponde cazzo roma si vergogna rave è provabile cazzo 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 aggiornare cazzo 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 è cascato ah li hanno sparato ahahah con tutte le cose ci sono da sparare lo vio quello al drone hanno beccato? si lo stavo facendo atterrare quattro due migliori dollari che servono ho già passaporto oh mio dio vabbè non era previsto l'utilizzo anteriore no è che sei autodistrutto ecco il comando mi ricevi la funzione autodistruzione comunque la mod del sangue è troppo figa è tanta roba è forte rai ma poi perchè ancora ci siamo persi i mortali i mortali esplodono le persone effetto vaporizzazione vero eh testiamolo su ravan esatto voglio vedere che succede al giocatore e c'era anche se non so che settaggio c'è ma il colpo in testa con calibro rosso dovrebbe far esplodere la testa voliamo su ravan ecco ecco avvicinatevi c'è un altro qua sotto un altro quel muro l'abbiamo ridito varian sei ferito papo a terra c'è un altro c'è un bandit per me c'è un altro c'è un altro c'è un altro c'è un altro occhio sull'ingresso ragazze a 310 arrivano tutti alla facciaci un'esplosiva eh non ce l'ho se ci vede una canata è tirato a parte no perché se sono risposto no un attimo non ci stavo pensando mo sarebbe il giusto finale se l'aereo si gira e ci tirano la bomba sul palazzo capite che ci tengo a sti civili oh eccoli ecco che fate venite là oppure giudiamo qui è un aereo cioè venite là esatto venite là non c'ha proprio assolutamente senso no giudiamo qui non c'è proprio un LZ quando vi vediamo a vista giudiamo perché siamo un po' compromessi come situazione comunque qui a Dshad ragazzi stanno tutti qua sotto a 3-2-0 puntate lì per favore sulle ingresse dietro di noi a sud che cazzo ma che cazzo era la seconda guerra qualche alfa sentati a nord e comanda sentati a sud vamo così che cazzo esatto ma ho sentito un aereo prima che cazzo avete messo stai girando attorno a noi ecco smettile da spammare roba ecco sta spammando la roba i tedeschi ha messo sono 20 fps ma questi perché li usano loro scusa a basso prezzo eccolo che passa di nuovo là davanti attenzione eh scusa la volpe del deserto oltre quelle cose lì cazzo ci avete caricatori rambi vabbè ti p51 quelli di una battaglia di coso attenzione urto che questo mira a te vai vai io bocchino bocchino stessa è quello per me piappa la gru piappa la gru piappa la gru io non so vatti purtroppo sono l'ultimo addosso il pilota questo pronti? pronti? fuoco sull'aereo eh? ehm eccolo eccolo però non fa rumore me levo che sicuramente ci sta non fa rumore non fa eh quelli silenziati quelli modernizzati dai che è già fuori rami si fa solo 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 oh sta facendo fuoco su ecco qui alfa etta sta avendo su ecco ma scherzi hm che facciamo con Giusura? regiuto chiudiamo qui e no eccolo 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 ce la facciamo a fare extrazione so loro si mi sa che stanno ti stanno schiantando ok comodi stai schiantando o stai privato? autorotazione! autorotazione subito! aia 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 funziona un cazzo sta ora l'autorotazione funziona un cazzo l'autorotazione va vai per me so caca si va bene ragazzi allora prima che passi il coso l'aereo tedesco ottima a tutti forza la prossima la facciamo sempre a fare foto grazie grazie ti hai provato ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti a a